ehi riders il boss vi stima vediamo di imparare una roba altamente professionistica la curva backside facile è importantissima la scelta del terreno pista ampia senza pin intorno è una pendenza non esagerata partendo dalla diagonale in appoggio sulla lamina front ci sbattiamo in posizione di base 1 2 3 via iniziamo a voltare lo sguardo verso valle diminuiamo progressivamente la presa di spigolo front side infilandoci una rotazione delle spalle occio al momento in cui la tavola è piatta e parallela alla discesa che i più si cagano addosso qui niente paura che il boss è con voi completiamo il movimento della testa delle spalle per poi ricercare l'appoggio dello spigolo backside gradualmente aggiustiamo la velocità se necessario prima di raggiungere le 88 migliorarie spigolo Se necessario prima di raggiungere le 88 migliorarie Boom, boom, boom